Se domenica scorsa l'idea che ci ha guidato era quella della promessa di bene che Dio fa ad ogni persona e quindi della speranza, oggi al cuore della liturgia c'è senz'altro la parola di Dio e c'è anche padre Ernesto della Corte che torna a trovarci. Buona Pasqua della settimana padre Ernesto. Buona settimana anche a voi, buona Pasqua della settimana e buon avvento ancora, visto che domenica scorsa ci siamo visti dalla clausura di Crotone, anzi le salutiamo le nostre sorelle chiedendo loro preghiera anche per tutto il nostro lavoro missionario che facciamo per l'annuncio della parola. Ci uniamo a te. Quindi è cominciato il cammino di avvento, il cammino dell'anno dandoci il semplice obiettivo di cercare nella liturgia della parola della domenica le tracce di misericordia che questa stessa ci offre. In realtà il cammino noi lo continuiamo a fare perché come dicevamo domenica scorsa introducendo all'avvento, l'avvento non fa altro che ricordarci che noi siamo già in cammino e anzi rispetto a noi c'è qualcuno che sta facendo già il cammino verso di noi che è il risorto, il vivente. C'è un testo molto bello da cui vorrei partire oggi, è il testo di Isaia al capitolo 30 versetto 18 dove in ebraico, purtroppo in italiano non si vede più nella traduzione, c'è scritto innanzitutto che Dio attende. Quindi la vera attesa è innanzitutto da parte di Dio. Perché? Perché questa attesa di dare misericordia e poi ci è chiesto all'uomo di mettersi in uno stato di attese, quindi di andare incontro a colui che lo attende per dargli misericordia. L'immagine è veramente molto bella, la vorrei sottolineare alle amiche e agli amici che ci seguono. Per cui il cammino dell'avvento in realtà è il cammino del quotidiano perché l'avvento è preparazione a quella veduta finale del risorto, il quale ancora oggi insieme al Padre e allo Spirito Santo attende di darci amore, misericordia, conversione, cambiamento di vita. Ed è quello che oggi è Giovanni che ci spiega, perché dopo la prima settimana in cui c'è sempre il discorso escatologico, cioè rivelativo delle realtà ultime, poi nella seconda e terza settimana il protagonista è il grande Giovanni. Mentre domenica scorsa abbiamo sottolineato il ritorno del Cristo risorto, la seconda e la terza settimana di avvento vogliono inquadrare la preparazione evangelica da parte di Giovanni Battista, che non è soltanto preparazione al Ministero di Cristo, ma è preparazione ancora oggi per noi. E poi nella quarta, che sarà proprio a breve, il 23 di dicembre, noi nella quarta settimana avremo ancora una volta la grande protagonista che è Maria di Nazareth. E così avremo la quarta e il martedì successivo c'è il Natale. Quindi un bellissimo programma per tutti quanti noi. I protagonisti sono proprio questi, quindi il Battista, Maria di Nazareth, soprattutto anche i profeti, quando li leggiamo anche nei giorni in cui la liturgia ce li mette sempre davanti. Che cosa ci dice oggi in questo capitolo 3 il nostro Giovanni Battista? Sintetizza in sé tutta la profezia dell'Antico Testamento. Lui non è soltanto l'ultimo dei profeti, ma è colui che li riassume tutte. Potremmo dire li ricapitola in sé. Gesù infatti lo dirà. Tra i nati di donna nessuno è più grande di lui. Anzi, tutti gli evangelisti concordano nel dirci che proprio in quella zona in cui aveva operato il grande profeta Elia, che poi era stato assunto al cielo, Giovanni Battista comincia a predicare un battesimo di conversione, finalizzato al perdono dei peccati. Non dobbiamo dimenticare che erano 500 anni che non c'era stato più un profeta in Israele. Quindi quando arriva Giovanni davvero sembra che sia ritornato il vecchio grande Elia. Che cosa propone Giovanni? Propone e predica un battesimo. Non dimentichiamo che questa parola viene dal verbo battezzare che significa immersione. In realtà il Battista predica un'immersione come un atto di umiltà. Quindi chiede di fare un atto di umiltà davanti a Dio per riconoscere i propri limiti. E lo suggerisce con un rito pubblico che è proprio l'immersione nell'acqua. Si entrava nel fiume dove c'era Giovanni e Giovanni afferrava la persona e lo immergeva nell'acqua. E' un rito molto simile. Avveniva presso gli Esseni. Curan, famoso monastero. Forse Giovanni, come Luca ha detto in 1,80, il bambino cresceva nel deserto e ha acquistato tutta la sapienza di Dio. Evidentemente Giovanni fin da piccolo il papà lo ha portato presso questo monastero per fare un cammino. Poi c'è stata la chiamata da parte di Dio e si è spostato sul Giordano. Che vuol dire che Giovanni chiede una conversione, una metanoia, come dice il testo greco? Indica un cambiamento di mentalità. Quindi il gesto fisico di immergere nell'acqua vuole indicare una immersione, un cambiamento di vita, un morire all'uomo vecchio in un certo senso, con la finalità di poter ottenere il perdono dei peccati. Quindi è fondamentale questa immersione nell'acqua. Potremmo anche dire che è come dichiarare di avere l'acqua alla gola. Indica una condizione di disagio. L'uomo sott'acqua è in pericolo, non riesce a respirare. Uno che ha l'acqua alla gola sta per annegare. L'acqua in questo caso è un simbolo del mondo caotico della morte. Potremmo dire che l'immersione in quell'acqua è l'immersione nel disordine. Giovanni assume questo gesto simbolico davvero interessante. È colui che immerge proprio il profeta. Ecco perché Giovanni veniva chiamato o baptizon, colui che battezza. Poi è diventato un nome, noi lo chiamiamo simpaticamente il battista. Ma lui era colui che battezza, colui che immerge, colui che in un certo senso chiede di cambiare mentalità. Ovviamente quel battesimo di Giovanni non ha la possibilità di realizzare questa metano. Quella grazia di Dio lo farà poi Gesù. Che cosa fa la gente davanti a questo rito e davanti a questa proposta? La gente è andata da lui spontaneamente. Molta gente accorreva a Giovanni. Giovanni davvero dopo 500 anni compare questo grande profeta che ricorda Elia e davvero riscuote molta simpatia. La gente ci andava spontaneamente e ci andava direi anche con molta sincerità. Perché quest'uomo dava veramente credito anche il suo modo di vestire, con quella tunica che ricordava i profeti, vestito di peli di cammello, con quella capigliatura che ricordava il nazoraio, cioè l'uomo di Dio, il consacrato, una persona molto franca. Giovanni Battista è una persona con un carattere molto forte. Addirittura riusciva a predicare quando passava lungo la riva del Giordano, predicava al grande re Erode, il quale aveva un grande rispetto di quest'uomo. Come si svolgeva questo rito? Egli poneva la mano sulla testa e poi immergeva la persona nel fiume Giordano, quel fiume che attraversa tutta quella striscia della Terra Santa, quel fiume che ha visto in millenni tutto ciò che è successo in quegli anni. E in questo modo le persone manifestavano, essendo immerse sott'acqua, di essere incapaci di salvarsi da solo. Ecco che cosa diventa allora questo rito. Potremmo dire che l'immersione, il battesimo di Giovanni, diventa un gesto di penitenza, un gesto di conversione, un gesto che ha una finalità, invocare il perdono che può venire solo da Dio, perché solo Dio può salvare. E allora cosa vuole dire a noi questa domenica, questa seconda domenica? Evidentemente Giovanni chiede anche a noi di preparare la via del Signore. Giovanni, il Battista, è veramente la figura del vero discepolo di Gesù. Lui diminuisce per far crescere il Signore. Quindi anche noi dovremmo, come Giovanni, preparare continuamente la via del Signore, ascoltando proprio Giovanni che nel deserto è la voce che grida, il deserto, il luogo del primo amore, il luogo in cui però ci sono stati continui rifiuti da parte di Israele. È proprio questa voce che grida nel deserto e indica che Gesù è il luogo dove possiamo incontrare quel Dio che nessuno ha mai visto e mai vedrà, ne potrà mai fare un'esperienza se non a partire da Gesù Cristo. Ecco perché Giovanni diventerà quella grande figura che indica l'agnello, il talia, agnello servo, che è Cristo. E Luca ci dimostrerà, l'ha fatto già nell'infanzia, quando al quarantesimo giorno Gesù viene, secondo la legge, presentato al Tempio, in realtà Gesù, secondo la profezia di Malachia, prende lui possesso del Tempio. Lui è la presenza del Padre. Il piccolo Gesù di 40 giorni portato al Tempio è la presenza del Padre nel Tempio. Ecco perché Gesù è colui che narra l'amore di Dio per noi, è colui che ce lo mostra. E allora bella questa immagine. Vorrei che veramente le nostre amiche e i nostri amici vivessero così, non solo questo tempo di avvento verso la seconda venuta, non solo la preparazione alla memoria storica del Natale, ma soprattutto dovremmo ricordare che c'è un Dio che ci aspetta, è un Dio che attende di farci grazia, perché desidera che ognuno di noi gliela chieda, l'accolga, la metta davvero in pratica. È un Dio che davvero vuole portarci a casa e vivere allora, come diceva Luca domenica scorsa, stando dritti, andando incontro a colui che ci vede incontro. Perché ricordiamolo, il vero Natale non è quello che ci propone la pubblicità come ogni anno, le luci sfavillanti. Il vero Natale è semplicità di vita. È Natale ogni giorno, è Natale nella ferialità, quando ogni giorno accogliamo l'amore di Dio e lo riversiamo ai nostri fratelli. La vita semplice non è mai un punto di partenza, ma un punto di arrivo. Ecco perché oggi vorrei augurare alle amiche e agli amici che ci seguono una buona conversione. Cambiamo la testa. Questo vale più di ogni rito, più di ogni simbolismo. Il Signore vuole che davvero ognuno di noi diventi il luogo dell'incontro con quel Dio che è di una grande misericordia, lento al dira, ma è sempre pronto a donarci amore. Diciamo che se domenica scorsa accendere la prima candela di avvento poteva voler dire accendere la promessa. Oggi vogliamo accendere la fiamma dell'ascolto e lasciare entrare in noi una parola viva capace di farci cambiare. Ecco il cambiamento e la conversione. Hai fatto un'ottima sintesi perché proprio Luca che è il discepolo di Paolo sa che la fede nasce solo dall'ascolto. Quindi se non c'è l'ascolto della parola noi non arriveremo mai a praticare quell'amore di Dio. Direi che noi siamo tra due sponde. Si parte dall'ascolto e si arriva alla pratica. La pratica ci riporta all'ascolto. Mai separate le due realtà. Il vero ascolto arriva alla pratica e la pratica deve sempre partire dall'ascolto della volontà di Dio. E questo forse è un bel sentiero luminoso che possiamo fare nostro, caro Anna Mariano. Grazie padre Ernesto per oggi, per questo tempo di avvento che continui a vivere insieme a noi e ci vediamo la prossima domenica. Bene, buona Pasqua della settimana e buon cammino. Ate, Shalom. Shalom.